E' entrato tra gli studi selezionati per il Besto Vasco. Si tratta dello studio internazionale Mito Mango sul carcinoma ovarico, un trial coordinato all'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli che rappresenta anche un interessante e bellissimo esempio di collaborazione pubblico privato. Ce lo siamo fatto raccontare dal dottor Sandro Pignate e dal dottor Gennaro Daniele che sono i coordinatori della ricerca. Sentiamo cosa hanno detto al nostro collega. Sono stati presentati qui all'Asco di Chicago i risultati dello studio Mito B16, un esempio di ricerca indipendente di alto livello italiana che ha coordinato le principali società scientifiche, le aziende private e l'Istituto Pascale di Napoli. In che cosa consisteva questo studio? Che pazienti ha ruolato e quali sono gli obiettivi principali? Lo studio Mito 16B Mango V2B o Engot V17 è uno studio accademico promosso dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli Pascale che ha come obiettivo quello di dimostrare se l'aggiunta del Bevacizumab, un farmaco antiangiogenetico, ha un impatto in combinazione con la chemioterapia a base di platino sul PFS, sul Progression Free Survival, delle pazienti con tumore ovarico avanzato, recidivato, dopo almeno sei mesi dall'ultima terapia a base di platino. Insieme a questo obiettivo clinico della dimostrazione della Progression Free Survival abbiamo valutato anche altri obiettivi, quali le risposte obiettive, la sicurezza del trattamento e soprattutto è in corso un progetto traslazionale che ha come obiettivo quello di valutare eventuali fattori prognostici o predittivi in questi pazienti di risposta al trattamento con l'antiangiogenetico. Quanti centri sono stati coinvolti, quanti pazienti e quali? Lo studio è stato coordinato dall'Istituto Tumori Pascali ed ha visto la partecipazione di 62 centri distribuiti in quattro paesi d'Europa, oltre all'Italia anche in Francia, in Svizzera, in Grecia. Sono state arrolate 405 pazienti con tumore ovarico recidivato dopo una prima linea a base di carboplatino associata a Bevacizumab. Quali risultati avete ottenuto? Lo studio dimostra che aggiungere Bevacizumab, quindi questo farmaco antiangiogenetico che blocca la formazione dei vasi sanguigni da parte del tumore alla chemioterapia è efficace anche in pazienti che avevano già ricevuto il Bevacizumab nella prima linea di trattamento, che in Italia sono circa il 60%. Quindi questo rappresenta una nuova alternativa terapeutica per i nostri pazienti che può contribuire e favorire quell'idea e quell'obiettivo che noi abbiamo per le pazienti con recidività di tumore ovarico che è rappresentato dalla cronicizzazione della malattia. Questo studio è un esempio di buona ricerca e di organizzazione? Noi siamo molto orgogliosi di questo studio in particolare, intanto perché è un esempio di ricerca traslazionale applicata alla ricerca clinica. Noi abbiamo raccolto i campioni nei nostri pazienti, li abbiamo centralizzati e oggi ci sono 11 importanti laboratori di ricerca italiani che stanno sviluppando le loro idee di ricerca su questi campioni, quindi noi contribuiremo al miglioramento della conoscenza per questa patologia. Ma siamo anche molto soddisfatti per il livello di cooperazione che c'è stato. Intanto siamo riusciti a coinvolgere in questo progetto tre paesi europei, la Francia, la Grecia e la Svizzera, pazienti di quei paesi sono state randomizzate a Napoli nell'ambito di questo studio. Poi c'è stata la collaborazione dei due principali gruppi cooperativi italiani, il Mito, che io coordino, e il Mango. E poi c'è un interessante modello di finanziamento pubblico privato che vede l'azienda farmaceutica che produce il farmaco, che ha fornito fondi e il farmaco stesso. L'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e l'Associazione Italiana di Oncologia Medica che supportano parti del progetto traslazionale. Quindi come napoletani noi siamo particolarmente orgogliosi che tutto questo sia nato nel nostro istituto, l'Istituto Pascale, e che rappresenti un esempio per la ricerca indipendente italiana. C'è un piccolo latto negativo però in questa ricerca che riguarda il nostro paese. Sì, diciamo l'aspetto più difficile è che questo risultato positivo non si tradurrà immediatamente nella possibilità di impiego del farmaco in questa condizione in Italia. Mentre negli altri paesi del mondo questo studio genera immediatamente la possibilità di integrare nella pratica clinica questa strategia, in Italia non sarà automatica l'estensione di indicazione del bevacizzo e la rimborsa beta per questa indicazione. Ma è certamente un aspetto su cui si potrà lavorare per rendere possibile questa alternativa terapeutica prima possibile anche per le pazienti italiane.